Siamo qui con il mister Marcello Cottafava, ex treviso, Lecce, Spal, ora allenatore della primavera della Sampdoria. Mister, che tipo di squadra hai trovato? Un gruppo nuovo, un gruppo giovane, dove probabilmente si inserirà ancora qualche giocatore, quindi questo momento qua di ritiro è soprattutto per la conoscenza mia, dei ragazzi, di impostare un po' il lavoro, quindi è ancora un gruppo che si deve formare, ma è normale che sia così, abbiamo tempo e soprattutto ho trovato voglia nei ragazzi di imparare, di applicarsi, quindi questa è la parte fondamentale. L'attenzione su puntare giocatori di qualità, giocatori predisposti a fare questo lavoro, che è un lavoro bello, ma difficile, quindi a prescindere che sia la straniera o no, è importante scegliere bene. Poi il mondo sta andando in questa direzione qua, quindi penso che non ci siano problemi. Forse l'aspetto più importante è la comunicazione, a volte arrivano ragazzi che non sanno l'italiano, ci mettono tanto a impararlo e questo in uno sport di squadra è un elemento fondamentale. La Sampdoria è una squadra di primo ordine, a livello societario, ci tiene anche tanto a fare bene il settore giovanile, ha tenuto grandi risultati e stiamo cercando di riportare tutto l'ambiente a quello che è stato magari qualche anno fa, ripeto, negli ultimi anni magari ha aggiunto una salvezza alle ultime giornate, l'anno 19, ma ha tirato fuori anche giocatori importanti che sono stati in prima squadra, quindi sicuramente come struttura la Sampdoria non ha nulla di invidiare anche a chi magari sta ottenendo in questo momento qua posizioni più importanti. Il lavoro quotidiano è quello più importante. Devo dire che ora anch'io sto scoprendo l'ambiente, sono arrivato da poco, però c'è molta comunicazione diretta anche con l'allenatore della prima squadra e con l'ambiente prima squadra, quindi questo penso che sia un buono raggiunto, anzi in Italia forse tutti siamo ancora un po' indietro rispetto a altre squadre europee e come modulo, come indicazioni è ovvio che è importante preparare i giocatori per la prima squadra, quindi un'idea comune c'è. Poi è normale che anche noi vogliamo ottenere risultati e vogliamo valorizzare i giocatori, quindi strada facendo, è normale che poi dopo la squadra si indirizza un po' per quelle che sono le qualità, però sicuramente ed è anche bello che il contatto con la prima squadra ci sia costante. Anche quest'anno abbiamo il piacere di ospitare seppur la seconda squadra, la primavera della Sampdoria, sempre una squadra di serie A e quindi ci hanno confermato del lavoro svolto l'anno scorso, perché erano venuti anche praticamente l'anno scorso. Ci saranno altre novità da Loris in futuro? Ma in futuro prossimo? A breve no, però sicuramente verso ottobre, novembre succederà qualcosa.